Sanit, Forum Internazionale della Salute, si svolge annualmente a Roma nella prestigiosa sede del Palazzo dei Congressi dell'Euro. Circa 30.000 persone partecipano alla manifestazione visitando l'area espositiva e prendendo parte alle iniziative organizzate dalle numerose realtà pubbliche e private presenti. Sanit ospita 50 eventi tra cui convegni, tavole rotonde, workshop e conferenze stampa. Gli incontri trattano in maniera approfondita le tematiche di estrema attualità del settore con particolare riferimento alle strategie della prevenzione, la promozione del benessere e degli stili di vita salutari. Dall'immigrazione all'ambiente, dalla sicurezza alimentare alla prevenzione cardiovascolare, dall'alimentazione alle tecnologie. Sanit rappresenta il più grande evento istituzionale del settore. 20.000 sono gli operatori che frequentano le sessioni di lavoro interagendo con esperti delle materie, scambiando opinioni ed esperienze, aggiornandosi sulle novità e conseguendo crediti formativi. Autorità politiche, amministratori locali, manager e i massimi esperti delle materie partecipano ogni anno trasmettendo al mondo scientifico e al grande pubblico gli esiti degli studi, risultati ottenuti e progetti futuri. Un'area espositiva aperta al pubblico ospita gli enti pubblici e le aziende private che, a vario titolo e nei diversi ambiti, si occupano di tutela della salute pubblica, mostrando le proprie attività, le buone pratiche e i progetti di cooperazione pubblico-privato. Interessante ed ampia la presenza delle associazioni del volontariato socio-sanitario che mostrano le proprie attività di assistenza e che, in collaborazione con ASLE e società scientifiche, effettuano gratuitamente a tutti i visitatori consulenza e controlli di prevenzione primaria. Ampio risalto viene dato all'evento da giornali, riviste, televisioni locali e nazionali, con importanti servizi sia sulla manifestazione in genere, sia su specifici argomenti trattati nei convegni. Il grande successo del pubblico, l'ampio risalto mediatico, l'importanza delle tematiche trattate fanno di Sanit, Forum Internazionale della Salute, l'evento sanitario più atteso dell'anno.